La Polonia smaschera la più grande rete di spionaggio russa mai scoperta, rapporto L'ufficio del procuratore nazionale e l'agenzia di sicurezza interna hanno scoperto la più grande rete di intelligence russa mai operante in Polonia, con l'intento di far esplodere treni che trasportavano armi e aiuti umanitari in Ucraina, ha riferito il settimanale polacco Gazzetta Polska. Dal marzo a luglio, un totale di 15 cittadini bielorussi, ucraini e russi sono stati detenuti e accusati di spionaggio a nome del servizio di intelligence militare russo GRU. Essi rischiano fino a 10 anni di prigione. Secondo le scoperte del settimanale polacco, ricevevano i loro ordini direttamente da Mosca. Dopo aver completato un compito, venivano ricompensati in criptovalute, principalmente bitcoin, che scambiavano in contanti. Atti di deviazione i membri della rete di spionaggio, incaricati dai russi, non dovevano solo raccogliere informazioni, fotografare oggetti militari e civili o alimentare sentimenti anti-Ucraini e anti-Nato, ma anche preparare atti di deviazione e sabotaggio, ha scritto Gazzetta Polska. Il fascicolo del caso, composto da 66 volumi, contiene materiale che indica, tra le altre cose, che avevano pianificato di far esplodere treni che trasportavano carichi di armi e aiuti umanitari in Ucraina. Ecco perché le prime detenzioni sono avvenute in un momento piuttosto che in un altro. Il rischio di attentati era troppo grande per tenere il gruppo sotto ulteriore osservazione, ha dichiarato una persona informata sui retroscena del caso al settimanale. La rete di spionaggio è stata creata meno di un anno dopo che la Russia ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina. Ufficiale militare tedesco sospettato di spionaggio a favore della Russia. L'uomo, identificato solo come Tomas H. Dalle fonti ufficiali e di stampa, aveva lavorato presso il Dipartimento per l'Equipaggiamento, la tecnologia dell'informazione e il supporto in servizio dell'esercito. I pubblici ministeri federali tedeschi hanno annunciato mercoledì 9 agosto che un cittadino tedesco che lavorava per l'esercito era stato arrestato con l'accusa di spionaggio a favore della Russia, mentre giungevano segnalazioni relative ad un aumento delle attività di spionaggio da parte di Mosca. Il sospetto arrestato rappresenta solo l'ultimo di una serie di casi di presunto spionaggio a favore della Russia negli ultimi mesi, mentre la Germania ha intensificato il suo sostegno all'Ucraina diventando il secondo maggiore fornitore di armi di Kiev per respingere l'invasione russa. L'indagato è fortemente sospettato di lavorare per un servizio di intelligence straniero, ha dichiarato l'ufficio del procuratore federale in una nota, aggiungendo che il sospetto aveva offerto i suoi servizi all'ambasciata russa a Berlino, tra le altre istituzioni russe. L'uomo, identificato solo come Thomas H., in conformità con le regole sulla privacy tedesche, è stato posto in custodia mercoledì dopo il suo arresto nella città occidentale di Koblenza. Secondo i pubblici ministeri, sono state effettuate perquisizioni nel suo appartamento e sul suo posto di lavoro. Thomas H., aveva lavorato presso il Dipartimento per l'equipaggiamento, la tecnologia dell'informazione e il supporto in servizio dell'esercito. Secondo il sito web del Dipartimento, si occupa dello sviluppo, dei test e dell'approvvigionamento di armamenti utilizzati dalle forze armate, che vanno dai complessi sistemi informatici dei carri armati e degli aerei all'equipaggiamento da combattimento personale utilizzato dai soldati. Nel maggio 2023 si è avvicinato al Consolato generale russo a Bonn e all'Ambasciata russa a Berlino e ha offerto la sua collaborazione, hanno dichiarato i pubblici ministeri. Nel processo, ha trasmesso informazioni che aveva ottenuto nel corso delle sue attività professionali per farle pervenire a un servizio di intelligence russo. L'indagine nei suoi confronti è stata condotta in stretta coordinazione con l'intelligence militare e l'Agenzia di sicurezza interna, il BFV. Il ministro della giustizia Marco Bushman ha ringraziato coloro che hanno condotto le indagini contro l'ufficiale tedesco, affermando che «la vigilanza rimane l'ordine del giorno». L'arresto è avvenuto dopo che il BFV, a giugno, ha messo in guardia dal rischio di una «operazione di spionaggio russa aggressiva» mentre Mosca sta conducendo la sua invasione a piena scala dell'Ucraina. Le sanzioni occidentali contro la Russia e il sostegno alla difesa militare dell'Ucraina hanno fatto sì che il Cremlino avesse un «interesse crescente» nella raccolta di informazioni, ha affermato il BFV nel suo rapporto annuale. «In futuro, è da aspettarsi un'operazione di spionaggio russa più clandestina e aggressiva, nonché attività nel cyberspazio provenienti dalla Russia», ha dichiarato il BFV. I servizi di intelligence russi stavano cercando di «portare nuovi dipendenti in Germania», oltre a perseguire o rinnovare attività con il personale esistente. A metà aprile, Berlino ha espulso un certo numero di diplomatici russi per motivi di spionaggio, provocando l'espulsione a sua volta di 20 diplomatici tedeschi da Mosca. Un mese dopo, la Russia ha posto un limite di 350 al numero di personale tedesco ammesso in Russia, costringendo di fatto centinaia di dipendenti a lasciare il territorio russo. Berlino, per ritorsione, ha ordinato la chiusura di quattro consolati russi su cinque. A dicembre, peraltro, un membro dell'agenzia di intelligence tedesca che si occupa di controspionaggio estero è stato arrestato con l'accusa di passare informazioni riservate a Mosca. Un uomo, identificato solo come Thomas H., che lavorava nel Dipartimento per l'Equipaggiamento, la tecnologia dell'informazione e il supporto in servizio dell'esercito tedesco, è stato arrestato con l'accusa di spionaggio a favore della Russia. I pubblici ministeri federali tedeschi hanno dichiarato mercoledì 9 agosto che l'uomo era sospettato di aver offerto i suoi servizi all'ambasciata russa a Berlino e ad altre istituzioni russe. Thomas H., è stato posto in custodia dopo il suo arresto nella città di Koblenza e le sue abitazioni e il suo luogo di lavoro sono stati perquisiti. L'uomo aveva lavorato nel Dipartimento per l'Equipaggiamento, la tecnologia dell'informazione e il supporto in servizio dell'esercito tedesco, che si occupa dello sviluppo e dell'approvvigionamento di armamenti utilizzati dalle forze armate tedesche. Secondo i pubblici ministeri, Thomas H. si era avvicinato al consolato generale russo a Bonn e all'ambasciata russa a Berlino nel maggio 2023, offrendo la sua collaborazione e trasmettendo informazioni ottenute durante il suo lavoro professionale a un servizio di intelligence russo. L'indagine contro Thomas H. è stata condotta in collaborazione con l'intelligence militare e l'Agenzia di sicurezza interna tedesca, il BFV. Il ministro della giustizia Marco Bushman ha elogiato le autorità che hanno condotto l'indagine e ha sottolineato l'importanza della vigilanza in tali casi. L'arresto di Thomas H. fa seguito a una serie di casi di presunto spionaggio a favore della Russia in Germania negli ultimi mesi. La Germania ha aumentato il suo sostegno all'Ucraina diventando il secondo maggiore fornitore di armi per contrastare l'invasione russa. Le autorità tedesche hanno espresso preoccupazione per l'aumento delle attività di spionaggio da parte della Russia, soprattutto alla luce della piena invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Il BFV, l'Agenzia di sicurezza interna tedesca, ha avvertito del rischio di un'operazione di spionaggio russa aggressiva e ha previsto un aumento delle attività di spionaggio e delle attività cibernetiche provenienti dalla Russia. Secondo il BFV, i servizi di intelligence russi cercano di reclutare nuovi agenti in Germania e di rafforzare le attività con il personale esistente. Si sono verificati anche recenti episodi di espulsione di diplomatici russi da parte della Germania e di diplomatici tedeschi da parte della Russia a causa di preoccupazioni legate allo spionaggio. Nel dicembre 2022, un membro dell'Agenzia di intelligence estera tedesca BND è stato detenuto per aver passato informazioni ottenute durante il suo lavoro ai servizi segreti russi, mentre nel novembre 2022 un uomo tedesco è stato condannato con sospensione della pena per aver passato informazioni ai servizi di intelligence russi mentre lavorava come ufficiale di riserva per l'esercito tedesco. Questi casi evidenziano la crescente preoccupazione della Germania per le attività di spionaggio russe nel paese e l'impegno delle autorità tedesche nel contrastare tali minacce alla sicurezza nazionale. Grazie a tutti.